Questa che ho davanti a me è la felce di Boston, piccoli accorgimenti per farla riprendere. Allora, è importante che questa pianta, quando è inverno, sia ritirata dentro casa quando le temperature scendono al di sotto dei 10 gradi, perché è una pianta tropicale, a tutti gli effetti la potete trattare come se fosse una falenopsis, e vi spiego perché. Viene dagli stessi ambienti, dalle regioni tropicali, non ama la corrente d'aria diretta in questa maniera, perché vivendo all'interno di un ambiente tropicale è protetta dalle piante, in modo tale che non subisca questi effetti del vento. Quindi è importante che lei abbia la sua giusta umidità, perché viene dai tropici, come la falenopsis. È una cosa anche importante che deve essere mantenuta umida tutto l'anno, ma non deve essere esposta al sole diretto, come la falenopsis, se anche lei non ama il sole diretto. Se fate questi piccoli accorgimenti, vedrete che sarà sempre verde florida.